benvenuti o bentornati nel mio pazzesco finale oggi siamo andati con questo video per parlare degli effetti di master duel allora parliamo di questi difetti primo difetto che ha master duel che è un difetto veramente da migliorare al più presto è che i ranghi i ranghi per esempio ragazzi io sono a 105 voi non è che incontrate sempre al 105 potete incontrare anche al 101 che dico ma se io sono al 105 ed è una partita di rango partire di rango vuol dire che è il stesso rango quindi se al 105 è sempre al 105 se al 101 al 101 al 102 al 102 è sempre così siamo la cosa di oro e se io sono oro 5 non è che devo contare per forza oro 1 che c'erano il deck della madonna no o platino 1 devo essere forza platino 5 o d'oro 5 o d'oro 4 via dicendo secondo difetto sono i deck quelli in meta uno dei deck in meta è dell'exodia è un difetto è un deck da migliorare perché il deck exodia praticamente non è vero possibilità di contrastarlo perché l'ora se lo so se lo evoca l'exodia voi avete perso automaticamente arriva il suo effetto avete perso è un deck totalmente devono pannarlo perché bene le carte limitazione però le carte limitazione potre sempre vocale invece ci vorrebbe un bel vanno e allevare i deck sono se sono troppo in meta raga mettere dei deck anche i deck vecchi deck tipo di deck eroe deck elementali deck draghi che non sono in meta metterli avere più potenziamenti avere più equilibri più equilibri da essere giocati tranquillamente in meta invece così abbiamo sempre deck che non c'entrano un cazzo col meta di yugio sono sempre in meta e soprattutto raga terza cosa migliorare le carte sul gioco perché praticamente ci sono persone che mettono fusioni su fusioni fusioni 5 6 7 fusioni nel campo e io dico ma potrebbe essere anche una cosa bannabile oppure lo spamming di mostri ci sono spamming ci fanno troppe combo raga è una cosa ingiocabile perché a parte del passare il tempo raga il vostro avversario con una con un turno che vi fa viva un combo malissimo perché se evoca mostri su mostri e fusioni infusioni poi non potete fare un cazzo per contrastarlo a parte se non abbiate lo stesso deck però è pur sempre difficile contrastarlo visto che se voi iniziate prima lui vi fa la seconda il secondo turno per lui sarebbe il primo turno lui mancomba perché lui attacca lui quindi voi non avete nemmeno tempo di riprendervi dal turno ed è una cosa che questa cosa provina il gioco quarto le gemme le gemme raga inizio il gioco come dicono tutti davano un bordello di gemme ora vi dato solo quale 20 gemme giornaliere nelle altre gemme potete prendere dalla storia appena vita la storia avete speso tutte le gemme potete attaccare al tram tranquillamente perché non ci sono eventi c'è solo pvp se siete al platino 5 platino 1 vi attaccate poi al tram non uscite più perché al platino 1 non vi danno più gemme quindi cosa da fare raga è scalare di rango e rifare tutte le gemme ed è un odio tremendo perché c'è gente che ci sta esattamente una settimana per arrivare avranno platino 1 e poi non ricevere più gemme ma cosa cosa questa storia raga anche se siamo a platino 1 dovremmo ricevere pur sempre 200 gemme dico io 200 gemme non a partita ma almeno dopo un bel po di partite darvi come bonus partita vinta un 100 gemmi 50 ma almeno raga che non quelle 5 gemme che non se ne fa niente nessuno perché sono inutile quale 5 gemme che vi danno quinto motivo raga andiamo qua alla durata dei match che c'era fa un discorso raga un video lungo 35 ore minimo perché c'è gente che fa durare letteralmente un match un'ora e mezza io dico se un gioco di carte un gioco veloce deve essere veloce non ci sta mezz'ora per fare una combo mezz'ora raga mezz'ora poi il problema l'altro problema che andiamo a sesto difetto che voi mentre è il vostro turno fatto una attivate una carta trappola a catena il gioco vi passa per un attimo il turno all'avversario non la finisce non c'è non si finisce più il tempo è il vostro turno ma il vostro avversario vi deve rompere i coglioni che deve riuscire se fare l'effetto a catena oppure no è una cosa odiosa perché se è il mio turno perché ho passato l'avversario è il mio turno basta punto se deve fare un effetto a catena lo faccia subito non mi fa aspettare mezz'ora per leggere carte orca mi saia raga perché perché se vogliono leggere gli effetti delle carte fanno una cosa vanno sul deck leggono uno per uno e poi in il match si ricordano che effetto fanno non è che mezz'ora stanno aspettando mezz'ora non fanno finire la combo un'altra cosa peggiore raga la settima appunto e poi finisco alcuni fatti delle carte che sono pure limitati tipo la reikei che dice tutte le carte in campo non una cosa odiosa ancora di più migliorabile assolutamente raga non dico che bannabile prometterlo sicuramente limitato al massimo solo una copia perché c'è gente che non utilizza più di una si può anche fare una copia sola raga una copia solo per match una copia solo per deck per esempio una cosa meglio raga fare una una carta magia e una carta trappola rei e reiki rei jackie per ogni due match ogni due decchi decco perché se ogni deck la rei jackie c'è sempre invece così uno sì uno no bene i difetti di di ukio master duel sono finiti parliamo dei dei pregi i pregi ragazzi sono più di 10.000 carte sul gioco quindi a voglia di creare deck e fantasie nostalgici tutto quello che volete un altro ben un altro pregio di sto gioco ragazzi sono un bordeaux di spacchettamenti e poi se vuoi spacchettare del mass nel master pacco proprio lì pack che vi danno master duel immagino che vi da proprio master duel tramite quei pack non so se qua non so se qua me lo fa vedere ora però io ci provo a farlo vedere il pack quelli che vi da master duel luidi il gioco proprio vi da quei pacchetti la normali eccoli qua packet master pack eccolo qua se voi spacchettate qua master pack non so se si vede poi la c'è una grafica di merda spacchettata del master pack vi sboccano delle buste segrete e le chiavette e sempre questo busto segreterà che potete prendere no questo quello shop non c'entra una minchia gioco fammi vedere ecco qua le buste segrete questo è quella potete prendermi questi potete spacchettare questi mostri e mette nel vostro detto poi un altro un altro ultimo pregio perché a di altri non ne vedo assai perché c'era pure un botto bagato sul gioco l'ultimo pregio che se voi volete volete farvi un deck però non avete delle carte non dovete posso spacchettare la galle potete direttamente castare che vuol dire castare voi l'avete presente quando avete qua il deck c'è una una carta che vi manca qui per esempio che la carta che vi manca si vede se è colorata di grigio quindi scherzo questa carta raga e per per farla per averla dovete fare qua genera però dovete spendere 30 craft point ebre sr o ebre dipende dalla vita della carta però dovete avere questi questi poi se qua questi cast point lo sapete come si prendono raga semplicissimo o vendendo una carta e veneranno 10 oppure durante la storia vi dando pure abbastanza class points potete arrivare al massimo di 10.000 class points tramite questo class point ogni carta ce ne vogliono 30 l'unica pecca dei craft point quale web sono veramente difficile a prendere visto che lo avere sono veramente poche da sono poche sono limitate quindi se vendete un web leggetela bene i loro effetti andate a controllare se nel vostro deck preferito nel vostro deck in meta e attenti e non faremo sbaglio madornale perché può anche succedere che vendete il web del vostro deck più forte voi riprendete lì scioccati ma poi non sarebbe nemmeno un problema perché se lo vendete lo potete rigenerare con i craft points che l'avete venduta quindi la rigenerate il problema di sorto beh detto questo spero che questo video ci sia tutto in caso c'è like e scuola canale e il mio instagram è mi piace inserci il mio basso e il mio basso nome a z e ci vediamo nel prossimo video bella ciao 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 ciao